Interessante No, che bello Do il benvenuto a Lorenzo e Paola Mamma e figlio Li adoro Anch'io Li seguivo su TikTok in quarantena Sono fantastici Riesce l'età della età Facciamo l'età di lui Facciamo su di lui l'età Giovana Lei non si è fatto Ma è venuto per parlare di venti Ventina tanti Lei non lo capire Lei quanti ne avrà 38, 39 Sulla 40 Bravissimi Facciamo su di lui Lorenzo e Paola Poi parlerò con loro L'applauso invece parla da solo Bravissimi Stiamo indecisi Li avete riconosciuti anche voi Io li ho riconosciuti subito Sì, loro sono veramente delle grandi star di TikTok Di Instagram Anch'io spesso mi sollazzo E ripeto alcune loro coreografie Uguali? Ma diverse, diverse Dopo magari vi faccio vedere Ho proprio questa passione grazie a loro Grazie a loro Con chi volete giocare ragazzi? Io volevo giocare con il figlio Ma lei dice con la madre E' bello vedere una coppia Vogliamo chiedere a Luca Vedendo quello che è successo prima Ma Pier, con chi giocheresti? Io con il ragazzo più giovane Il figlio Anch'io Giochiamo con lui E poi privatamente chiederò a lei Quanti anni avrà Certo, beh D'accordo Mi pare giusto È il tuo diritto Giochiamo con Lorenzo Palo fa un passo indietro Eccolo qua Quanti anni ha? Però Secondo me Non più di 20 22 anni Proprio Viene tanti 20-22 Lei cosa dici? Ehhh La mamma secondo me è 40 Sì secondo me è 21 Io avrei detto Lei è 45 46 Magari ne ha meno di 20 Appoggiamo un'età Dai vediamo Io farei tra i 19 e i 21 19 no No io supererei i 20 21 21 21 Dai facciamo 21 Iniziamo con 21 Iniziamo con 21 E poi ragionate Bravi bravi Li mettiamo la 21 anni E andiamo a vedere subito che indizio vi capi Via Vabbè contagioso Canzone 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 Siete forti con le canzoni? Da morire Da morire? Sì No zio è ferratissimo Quindi sto tranquillo Mari è ferratissimo Ascoltiamo Ricky Martin A me sta da sfidare stasera Sì Ricky Martin Sarai 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 Eh io ero piccolina Ma la Diciamo che la Ballucchiavo già Quindi potrebbe averne 21 22 1500 euro per ogni anno di differenza 22 22 Eh sì 3 2 Pincia 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 22 Siete pazzi? Mi fate urlare 22 scusa Max Quattro centesimi di secondo Max scusa Scusa Non velevamo a partire No ma che scusa mica a me No perché Velevamo Se non schiacciate viene annullato e 22 22 Che ansia Io ero 22 anni Più giovine La ballavamo Dai Glielo chiedo? Sì dai Ma ne hai 22 Lorenzo Hai 22 anni Sì Uno Sì 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 Bravissimi Bravi Grandi Bravi Bravissimi Grande Grande Nicoletta Bravi Come state? Complimenti Complimenti Ciao Ciao Paola Com'è nata la vostra idea? Tu sei una ballerina professionista Faccio sì Faccio un insegnante di danza Faccio l'insegnante di danza Tuo figlio ballava con te Ho iniziato da 7 anni E avete pensato di fare questo Siete veramente bravi Grazie E anche molto freschi Cioè voi fate le vostre esibizioni in maniera molto pulita Non avete ammenicoli così Purtroppo mia mamma non mi insegnava a ballare Ma io da piccolo ho fatto molta danza Molta danza anch'io poi Purtroppo Ma potrei Dicurire Capito? Un freestyle Freestyle? Tutti insieme? Certo Cioè davvero? No perché io vi seguo Che fai? Mi metti in mezzo? Mi metti in mezzo tra voi? Lui metto Oppure tu vuoi guidarci? No In mezzo alle due Freestyle? Vai Aspetta eh Ale Dai Andiamo Manna Un sciamo che è meglio no? Seguitemi Bravissimi Lorenzo e Paola grazie complimenti Continuerò a seguirvi Volevo dire Lorenzo e Paola mi comunicano che Grazie all'esibizione con me hanno già perso 10.000 follower Devo dirlo se ne sono andati immediatamente Allora no Torniamo a giocare La guardate Là c'è la nostra sconosciuta misteriosa Eh ragazzi una posta Grazie a tutti